Ciao a tutti ragazzi e bentornati! Finalmente dopo qualche settimana sono pronto, sono qui a parlarvi, a mettervi a confronto 7 paia di cuffie, 7 true wireless, l'unico punto in comune tra di loro è che devono costare meno di 50 euro alcune sono acquistabili da Amazon tranquillamente, con tutti i privilegi del caso, garanzie, spedizioni e quant'altro, tutto in prime mentre altre sono acquistabili o meglio direi finanziabili da Indiegogo, quindi con tempi di spedizione molto molto lunghi e a volte proprio zero garanzia perché magari non rispondono più, io cercherò di essere abbastanza veloce nella recensione di oggi nel confronto di oggi per non star qui 3 ore, sperando di non dimenticarmi nulla Partirò con queste hypen, hypen dovrebbero chiamarsi così, anche loro acquistabili, anzi finanziabili tramite Indiegogo e con tempi di consegna davvero davvero molto lunghi, non so nemmeno quanto tempo ci hanno messo ad arrivare e come vedete però finalmente sono qui Il cofanetto è davvero piccolo e leggero, costruito in plastica opaca, con un design diciamo ricercato e anche l'assemblaggio a primo occhitto sembra di buona qualità però poi aprendolo si capisce che effettivamente il cofanetto è formato da due pezzi separati quindi la parte superiore non è attaccata a nessun modo alla parte inferiore quindi con il mio di utilizzo io questo cofanetto, la parte superiore la perdo in due giorni La ricarica avviene tramite un attacco micro usb purtroppo ma abbiamo il plus della ricarica wireless le auricolari sono completamente nere, ferme grazie al solito magnete che non gli fa perdere una ricarica nemmeno a volerlo e sono sempre belle in sede e non si sbaglia quasi mai mentre come difetto però ragazzi se cambiate invece il gommino rispetto a quello che è stato montato di serie diciamo nella cuffietta loro restano leggermente rialzate e quindi i connettori non vanno a posarsi nel modo corretto e le troverete o scariche o comunque sempre connesse quindi occhio visto che ci siamo vi parlo anche della batteria, loro durano circa 4 ore, 3 ore e mezza, 4 ore a volume massimo mentre il cofanetto dovrebbe riuscire a ricaricare queste high pen per circa 6-7 volte giù di lì anche se qui c'è un ma ragazzi, io dopo qualche giorno le trovo sempre completamente scariche non so se dipenda dal fatto che non si spengono completamente per colpa della sostituzione di gommini o perché appunto c'è una sorta di battery drain degli auricolari stessi o della batteria insomma quello che voglio dirvi è fate attenzione a non lasciarle di troppi giorni perché le troverete completamente scariche il design è molto carino, avvolgente e si appoggiano davvero bene all'orecchio essendo però di tipo in ear nonostante i diversi gommini sostituiti, anche quelli in memory ragazzi per me non c'è nulla da fare, queste mi cadono in continuazione e sono probabilmente quelle più scomode in assoluto tra tutte quelle che ho provato fino ad oggi non c'è stato verso per tenermele attaccate alle orecchie per più di qualche minuto per poi non trovarle a terra o comunque dover sempre stare lì a riposizionarle come in altre cuffie di questo genere la master è solo la cuffia a sinistra quindi quella potete utilizzarla tranquillamente singolarmente l'audio in chiamata è stereo e vi avverto che i microfoni in ambienti numerosi fanno un po' fatica mentre al chiuso in casa non ho avuto nessun tipo di problema molto bene per quanto riguarda invece la parte smart tutti i tap funzionano perfettamente c'è il cambio volume con un tap prolungato, il cambio traccia quindi sotto il profilo proprio dell'utilizzo senza bisogno di toccare lo smartphone devo dirvi molto molto bene e tutti i tap funzionano perfettamente il loro punto di forza ragazzi comunque di queste high pen oltre al prezzo e insomma a tante caratteristiche è la qualità dell'audio ma soprattutto la potenza se riuscite a trovare dei gommini e riuscite a tenere attaccate al vostro orecchio credetemi secondo me valgono davvero la pena sono le più potenti dell'otto che vedremo oggi il secondo prodotto che arriva sempre da Indiegogo e cercherò di essere molto veloce su di loro perché c'è una recensione completa dedicata che vi lascio qui in scheda sono le Pamu Slide costano anche loro meno delle 50 euro sono davvero buone in tutto, in quasi tutto la qualità dei microfoni, la qualità dell'audio anche l'indossabilità è abbastanza valida nonostante siano delle cuffiette di tipo in ear riesco ad indossarle senza troppi problemi mentre il loro peggior difetto è proprio il cofanetto che è davvero troppo grosso, pesante anche se riesce a ricaricare va bene 10 volte le cuffie ma per portarsene dietro davvero ci vuole uno zainetto o comunque una borsettina o qualcosa in tasca sono davvero scomode anche loro costano 50 euro circa o giù di lì se comprate la versione senza la ricarica wireless come queste e anche qui però vi dico già tempi di consegna parecchio lunghi garanzie insomma così cosa per mettere con le pinze però per quanto riguarda la qualità devo dirvi che mi hanno convinto prima di chiudere con le Pamu Slide ci tengo a precisare una cosa in molti mi hanno dato addosso come del comprato o del venduto per aver parlato bene di questo paio di cuffie come in altri casi se il prezzo fosse stato sopra i 100 euro ovviamente il mio giudizio avrebbe avuto un valore completamente diverso perché voglio dire ragazzi se queste costavano decisamente il prezzo che dicono di destino 140-150 euro beh a quel punto le avrei giudicate in modo diverso mentre a meno di 50 euro secondo me ci può stare in generale comunque funzionano molto molto bene quindi non ho tanto comprato ma io cerco di essere onesto insomma secondo me ne valgono la pena soprattutto a 50 euro poi ragazzi qualche settimana fa sempre da un'azienda startup che vendeva su Indiegogo comunque nella solita piattaforma c'erano loro le Jux le sono state inviate da un sacco di tempo le avevo ferme lì sul cassetto perché sinceramente ragazzi non le trovo più in vendita da nessuna parte non le trovo più su Indiegogo quindi sinceramente non so nemmeno se posso consigliarvele oppure no comunque le avevo messe lì da una parte comunque delle cuffiette che costavano circa 50 euro e appena arrivate non che mi abbiano fatto ridare al miracolo almeno le avevo dato un'occhiatina così e poi le avevo lasciate lì sul cassetto proprio perché non le trovavo più in vendita beh ragazzi con mia grande sorpresa dopo averle riprese e riutilizzate per qualche giorno devo dirvi che loro probabilmente sono le cuffiette di tipo in ear con la miglior indossabilità che abbia provato fino ad oggi non mi cadono queste non mi cadono sapete benissimo che mi lamento sempre delle cuffiette in ear perché mi vanno per terra perché non riesco a tenerle addosso perché le devo spostare mentre ragazzi queste grazie alla particolare forma le ho sempre attaccate all'orecchio non mi cadono mai veramente sono fantastiche la qualità dell'audio è buona peccano forse un po' in potenza in volume massimo e anche i microfoni con tanto tanto rumore fanno un po' fatica ma giuro che grazie alla sua forma mi dimentico un po' tutto di quello che è il discorso microfoni e potenza perché almeno non mi cadono e quindi tanta roba ragazzi su questo tanta roba il cofanetto è molto carino elegante non è piccolissimo di certo ne ho visti di più piccoli con il pregio di essere davvero pratico quando le dobbiamo estrarre o riposizionare al suo interno soprattutto con dei magneti molto stabili e precisi nella parte frontale poi ci sono anche dei led e soprattutto si ricaricano con un attacco type c per quanto riguarda l'autonomia siamo attorno alle 4 ore mentre il cofanetto ricarica per 3 volte le cuffiette molto interessanti anche quelli che sono i punti smart di queste Jux perché c'è il cambio volume con un tap prolungato il play pause il cambio traccia quindi tutto tutto davvero molto molto bene mentre meno bene un po' per il delay che c'è tra l'audio e il video quando guardiamo un video su youtube c'è un po' di ritardo e questo è un po' un peccato insomma ragazzi come avete capito non sono di certo le migliori per alcuni aspetti ma le migliori per quanto riguarda indossabilità ovviamente se trovo il link di vendita ve lo lascio qui sotto in descrizione e se lo trovate voi fatemelo sapere qui sotto e poi ragazzi ci sono loro le meno costose dell'otto le uniche ad essere poco smart se vogliamo perché non hanno il cambio volume non sono nemmeno touch e sono le Redmi AirDots costano anche pochissimo davvero vanno dalle 16 alle 35 euro in base a dove le acquistate e soprattutto in base al tipo di garanzia che viene dato e ai tempi di spedizione sono veramente piccole leggere e funzionano bene ma comunque di loro c'è una recensione completa che ho fatto qualche tempo fa ve le lascio qui in scheda e ragazzi loro sono quelle che hanno il cofanetto per dimensioni più piccolo quelle che sono più piccole quando indossate e quelle che preferisco se devo acquistarle per quanto riguarda un rapporto qualità prezzo suonano bene l'autonomia è molto molto valida i microfoni funzionano più che bene sono molto molto dignitosi rispetto anche al prezzo di vendita e quindi ragazzi loro sì loro sono il best buy di questo momento perché comunque c'è l'affidabilità di Xiaomi dietro ah ragazzi poi a ruota ho testato anche loro le clone di queste Aildots le QCY T2C costano meno di 35 euro su Amazon addosso stanno bene sono piuttosto piccole leggere ed è forse il loro unico pregio assomigliano molto alle Aildots anche se sono leggermente più grandi un pelino più cicciottelle se vogliamo così non sono touch ma ci sono dei tastini per cambiare traccia per rispondere a mettere giù una chiamata o per fare il play pausa purtroppo qui non possiamo cambiare il volume l'estazione del cofanetto è abbastanza semplice forse meglio rispetto alla Aildots c'è un pochettino di più spazio sono sempre di tipo in ear quindi ogni tanto le devo riposizionare anche loro anche se ho cambiato tutti i vari gommini l'autonomia più o meno siamo in torno le tre ore e mezza su per giù e il cofanetto dovrebbe ricaricarle più o meno per 7-8 volte quindi non male sotto il profilo di quella che è proprio la ricarica delle stesse e nessun problema nemmeno con delay tra audio e video anche loro sotto questo profilo non mi hanno deluso purtroppo però adesso devo passare anche ai lati negativi il suono è buono non posso lamentarmi visto il prezzo ma non sono all'altezza alle Aildots il volume non è da spaccatimpani le Aildots suonano un pochettino di più e soprattutto ragazzi i microfoni non ci siamo proprio in auto chiamando mia moglie chiamando mio padre tutti mi dicevano ti sento un po' disturbato non ti sento benissimo quindi i microfoni di certo non funzionano a dovere e poi ragazzi ci sono loro le Tautronics costano meno di 35 euro quando in offerta e anche di loro c'è una recensione completa che troverete qui in alto in scheda hanno un prezzo super interessante un design convincente e hanno tutti i vari tap compreso anche il cambio volume quindi sotto il profilo smart davvero tanta tanta roba la potenza audio c'è è anche abbastanza importante e anche per quanto riguarda proprio la qualità dell'audio ci siamo anche per quanto riguarda l'autonomia non posso assolutissimamente lamentarmi durano davvero un botto il cofanetto è piuttosto piccolo e leggero ma soprattutto non ci sono ritardi audio video ed in chiamata i microfoni funzionano bene molto bene soprattutto se consideriamo il prezzo di vendita e quindi ragazzi le Tautronics di certo è un paio di cuffie che vi consiglio e per ultimo ragazzi ci metto loro le migliori le più chiacchierate loro sono le i10 anche di loro c'è una recensione completa dedicata forse anche più di una troverete tutte le mie opinioni di questo modello proprio all'interno di quella recensione ma purtroppo devo darvi una bruttissima notizia non si trovano più o meglio si trovano un sacco di cloni di altri cloni ma che non sono le originali cloni delle Airpods come le i10 soprattutto per quanto riguarda la qualità hanno sì qualche difetto per quanto riguarda magari l'autonomia che non sono al massimo ma soprattutto ragazzi il loro miglior pregio è l'indossabilità sono delle Airpods in tutto e per tutto quindi a me stanno davvero da dio addosso e anche la qualità dell'audio è ottima giuro ragazzi se per caso tornano in vendita se per caso voi siete certi che il modello che avete ricevuto sono le i10 originali quindi quelle che funzionano bene scrivetemelo immediatamente su Instagram in un direct che controlliamo insieme il tutto e ovviamente vi posterò poi sul mio canale Telegram che troverete in descrizione qui sotto e anche all'interno delle mie storie Instagram dei link per poterli acquistare indipendentemente dal market dove si trovano che sia ebay piuttosto che Amazon o anche in quelli cinesi insomma l'importante è riuscire a portarsi a casa un paio di cuffie di questa qualità e che sia quella giusta insomma e non delle ciofeche cinesi vabbè che sono cinesi anche queste però insomma queste vanno bene insomma ragazzi che dire tutte queste cuffiette costano meno di 50 euro e qui voglio arrivare no quali sono le mie conclusioni cosa acquisterei quale acquistare allora ragazzi io per quanto riguarda il mio pensiero escluderei tutte quelle che sono fin di gogo no inutile acquistare qualcosa senza garanzie con dei tempi di assistenza o comunque di non assistenza e di spedizione assurdi per riceverle chissà quando anche se la qualità c'è insomma poi ragazzi vedete voi le pamu slide secondo me vanno benone però effettivamente sono troppi limiti troppi ma da dover affrontare quando si sceglie di acquistare da loro poi toglierei di mezzo anche purtroppo le i10 che ragazzi sono dei cloni che funzionano davvero molto bene hanno un'autonomia un po' così cosà ma effettivamente non sappiamo mai cosa ci arriva a casa perché tutti i link che ci sono adesso attualmente portano a prodotti completamente cloni di cloni che suonano da schifo e quindi poi ragazzi restano loro le redmi e il dots praticamente un best buy assoluto per quello che costano per la qualità escluderei proprio le QCY di seconda generazione non ha nemmeno troppo senso queste vanno meglio e costano anche meno e poi ci sono loro ragazzi le Tautronics io le ho amate dal primo momento perché costano poco suonano abbastanza bene i microfoni vanno abbastanza bene l'autonomia è più che buona il cofanetto non è di materiali schifosissimi ma soprattutto non danno problemi di cariche scariche insomma le ho trovate davvero ottime però purtroppo ragazzi sono finite in Amazon non ce n'è più se ovviamente troverò di nuovo il link attivo vi lascerò tutte le storie del caso su Instagram se non lo fate seguitemi e anche sul mio canale Telegram perché loro per i suoi 35 euro tanta roba e loro per i suoi 35 euro best buy quindi ragazzi lì dipende molto da voi che dire io per oggi vi saluto spero che questa sorta di confrontone veloce vi sia piaciuto se vi va mettete un bel like iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente prestissimo per un prossimo video a presto ciao ciao